427.000 bambini. Vengono i brividi a pensare a queste conseguenze. Chi può prendere cura di questi bambini? Chi almeno prova ad ascoltarli? Pari Alfredo Ferretti, direttore del centro del consultorio, il centro della famiglia di Roma. Pari Alfredo, noi pensiamo subito alle immediate conseguenze di un litigio in famiglia. In genere la mamma che ci rimette a volte addirittura la pelle, ma noi difficilmente pensiamo a quei bambini. La violenza che viene fatta litigando davanti a loro è paragonabile a una violenza fisica? È una violenza vera e propria. I bambini che assistono ad una violenza in tutte le gradazioni, perché qui normalmente quando usiamo la parola violenza subito pensiamo alla violenza fisica, alla cosa più dura. Bene, ci sono gradazioni di violenze a cui i bambini assistono e che assorbono e che possono provocare in loro, non dobbiamo drammatizzare, ma possono provocare in loro delle conseguenze serie che poi anche da adulti rischieranno di ripetere. Ecco perché per noi è importante, a parte riparare e cercare di essere presenti nelle situazioni più serie, ma cercare anche una prevenzione, cioè cercare una strada dove aiutiamo le famiglie almeno a gestire i loro conflitti. Padre Alfredo, quando arrivano da te le famiglie sono essenzialmente madri, nonne, quando arrivano da te arrivano già in una situazione molto compromessa, ma tu quando le vedi, quando le ascolti, leggi dei segnali, c'è qualcosa che si può fare secondo te dal tuo punto di vista prima ancora che poi succeda l'irreparabile? Guarda, dici bene, intanto quando arrivano vuol dire che c'è anche una volontà di far qualcosa e per noi è fondamentale. Dobbiamo dirlo sinceramente, in Italia non c'è ancora la cultura del farsi aiutare, siamo ancora lontani, rimandiamo sempre, diciamo ma si passerà, ma dai non fa niente. E no, cioè poter far capire le nostre... che blocca padre Alfredo le persone è la speranza. Voglio dire, sapere che l'uomo o la donna, succede raramente, ma succede che hai sposato, con cui vivi, sia un mostro, è difficile. Cos'è che blocca le persone dal venire a denunciare? I panni sporchi si lavano in famiglia? Prima di tutto c'è una vergogna, una vergogna e una consapevolezza ho sbagliato tutto e qui non c'è niente da fare. Oppure si ricorre un po' ai familiari dicendo che faccio? E c'è come una copertura ai familiari dire non fa niente, reggi un po'. Ora ogni segnale, quando appare, va preso sul serio, non solo per i diretti interessati, le mogli o i mariti che subiscono violenza, ma per i minori. I minori nel momento in cui assistono portano nella loro carne i segni, li troviamo immediatamente. Fortunatamente, vedi, ci portano anche i bambini. Vengono a volte le mamme e le nonne, col consenso ovviamente. Possiamo dire quanto sia fondamentale quel ruolo. Sì, il ruolo delle nonne, perché spesso sono loro che ce l'hanno in mano nei tempi liberi in cui i genitori sono al lavoro e loro percepiscono cosa hanno subito o cosa si portano dentro. Non hanno gli strumenti, però spesso hanno la saggezza di dire facciamoci aiutare. Che domande ti fanno i bambini quando riesci a farli parlare, quando riesci ad ascoltarli, padre Alfredo? Più che le domande, i bambini fanno i racconti, perché ai bambini bisogna lasciarli raccontare. Non dobbiamo portarli dove vogliamo noi, non dobbiamo portarli a dire che succede a casa tua. Al contrario, raccontare, perché altrimenti chiediamo a loro di descrivere qualcosa che già immaginiamo che sia terribile. Non farli sorridere, tra virgolette, e mentre sorridono trascrivono le ferite, tra i loro segni e noi le conosciamo. Ce la fanno a sorridere, ce la fanno ad uscire da quel buio, che tipo, te lo chiedo sai perché, che molte persone dicono ma io che ci vado a fare a un consultorio, che ci vado a fare ad un centro? Facciamo finta che stiamo entrando davvero, è da te. Qual è il primo approccio, una parola bruttissima, la strategia che si può utilizzare? Certo, intanto ascoltiamoli questi bambini. Abbiamo degli esperti in consultore, tutti i consultori ce l'hanno, dove sappiamo come prendere il bambino, da solo, quando ce lo danno da solo. O se si fa una terapia familiare, ma cominciamo con i bambini prima di tutto. Quando prendi il bambino e tu lo ascolti, cominci a farlo parlare, a farlo disegnare, a far sentire che c'è qualcuno di cui si possono fidare. Perché il problema grosso è che si sono alleati molto spesso nei conflitti, con l'uno o con l'altro, e questa alleanza ha fatto sì che non riescono neanche più a manifestare le loro rabbie, piccole o grandi che siano. Pare Alfredo, io ti ringrazio, sai perché? Perché siamo arrivati alla fase dell'ascolto. Mi sono alzata per fare entrare Chiara Gambino, psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa, grazie. Grazie, grazie. Grazie infinita. Chiara, buongiorno. Perché? Siamo entrati in questo centro dove, come ha detto giustamente, Pare Ferretti, in ogni consultorio, indipendentemente dall'impostazione, dall'ispirazione, c'è una figura come la vostra. E non perché, dottoressa Gambino, le sembra la fatina uscita dalle favole, ma perché è fondamentale il ruolo che avete voi. Io faccio un passo indietro. Assistere continuativamente a delle liti, per non parlare poi degli atti di violenza. Il caso raccontato nella scheda è un caso emblematico. La mamma era finita in ospedale tantissime volte. Una sorellina di 4 anni e questo bambino di 10 che non fa altro che dire adesso telefono, che questa è la situazione. Ma sono delle scene che lasciano un segno indelebile. ci dia un minimo di, forse anche speranza in questo senso. Sono delle scene che lasciano delle tracce di profondissima sofferenza nel cuore e nel cervello dei bambini. Addirittura ci sono delle ricerche che attestano che per i bambini che assistono alla violenza dei propri genitori, il proprio cervello ha le stesse reazioni di un soldato in guerra. Quindi è un sistema di allerta che scatta dentro l'organismo dei bambini che non si sentono più protetti, perdono il senso di sicurezza, di certezza, di fiducia, insomma, che sono tutte sensazioni che andrebbero tutelate nei bambini. I bambini hanno loro stessi bisogno di sentirsi al sicuro, invece assistendo a violenza in qualche modo si sentono costretti a ricoprire un ruolo che non gli appartiene. Quindi è come se entrassero in un accudimento invertito, no? In cui sono loro a dover proteggere la mamma, i fratellini più piccoli e questa inversione di ruoli purtroppo blocca la loro crescita, la crescita sana e equilibrata. Dottoressa Pareferetti ha accennato però dei segnali. Io le chiedo una cosa. Come abbiamo messo in evidenza? Abbiamo questo brutto difetto, brutta abitudine di dire sono fatti nostri, il tempo fa e guarirà le ferite. A che cosa bisogna prestare attenzione? Quando è che una madre, una nonna, una zia devono intervenire? Allora, in questi casi i bambini danno sempre dei segnali di disagio, di sofferenza. Hanno una serie di sintomi, disturbi del sonno, incubi notturni, disturbi dell'appetito, disturbi dell'apprendimento a scuola, comportamenti a volte anche aggressivi, forte irrequietezza, uno stato d'umore molto depresso, triste, mostrano una profonda tristezza, un ritiro sociale, una difficoltà a parlare, si chiudono in un silenzio, in un'angoscia, sono bambini coartati emotivamente che hanno difficoltà poi a interagire con gli altri, sono chiusi nel loro dolore. Quindi i segnali ci sono tutti? I segnali ci sono tutti. Il problema qual è? Che spesso i genitori coinvolti in queste dinamiche violente non vedono e addirittura pensano che il bambino non abbia visto nulla, perché magari tante volte i genitori litigano nell'altra stanza e dicono no, no, ma il bambino non ha visto, non ha sentito e alcune volte, questo è un altro aspetto molto tragico, il bambino viene guidato in una sorta di sogno, viene invitato a non vedere, a non sentire, viene addirittura... Può far finta di hai capito male, non è vero. E questo genera ancora più dubbio, angoscia, senso di insicurezza nel bambino. Pare Alfredo, quando poi questi bambini, grazie anche all'intervento degli psicologi, riescono a vedere il sole, che bambini sono? Voglio dire, sono bambini a cui anche lei, anche tu come sacerdote, non è che si può fare una predica o un'omelia a un bambino. Assolutamente. Da che cosa anche partire? Come si fa a dire a un bambino, ma tuo papà devi comunque volerli bene. Qua ti chiedo proprio di fare il prete, nel vero senso della parola. Certo. E intanto non possiamo fargli una predica, assolutamente. Dobbiamo tentare attraverso la fiducia che si crea con colui che l'aiuta. Normalmente colui che l'aiuta, almeno noi tentiamo, nel nostro consultorio, che non sia solo, che ad un certo punto entrino altre figure, che si senta parte di relazioni buone. Perché ciò di cui lui ha subito un grosso segno? E sono le relazioni. Ha perso la fiducia e sta negando in fondo quello che ha visto. Ma siccome lo nega quello che ha visto ed è impresso nella sua carne, c'è un conflitto dentro sto ragazzo. Allora lo aiutiamo a ritrovare la fiducia, a ritrovare relazioni buone. A questo punto dobbiamo riconsegnarlo quando è possibile all'ambito familiare. perché allontanarlo è sempre molto pericoloso. Riconsegnarlo alle famiglie significa fare un lavoro con loro, a loro volta. Ecco perché ad un certo punto bisogna fare entrare i genitori. E quindi non escluderli. Allora c'è un terzo elemento in tutto questo. La legge dove sta? Da che parte sta la legge? Ce ne andiamo in pubblicità. E poi arriva l'Avvocato Castagnola che è la nostra interfaccia. Questi sono problemi che si possono e si devono risolvere. Pubblicità. Sono 427.000, secondo le stime, i bambini che assistono a liti più o meno gravi in famiglia. E noi ne stiamo discutendo sempre con un raggio di sole, se è possibile, siamo a bel tempo, si spera, con l'Avvocato Iside Castagnola, esperta di diritto di famiglia che è venuta a trovarci, la dottoressa Chiara Gambino, psicologa e psicoterapeuta, il padre Alfredo Fioretti, direttore del Centro La Famiglia. Insomma, sono 3 voci per una speranza, se è possibile. Avvocato Castagnola, intanto la ringrazio di essere venuta. Le chiedo una cortesia. La legge da che parte sta? Le spiego. I bambini che trovano il coraggio, come diceva pare Alfredo, di raccontare, la nostra dottoressa Gambino che ci ha fatto capire come è possibile intervenire e poi vedremo anche precisamente come. Ma la legge, la prima cosa che fa è quella di togliere i bambini dalla famiglia e quella di metterli in centri protetti. Come interviene a riguardo? Innanzitutto abbiamo come deterrente due importanti provvedimenti legislativi che sono l'allontanamento dalla casa familiare da parte della persona violenta, che è importantissimo. E poi l'altro provvedimento è il collocamento in base all'articolo 403 del minore in un luogo sicuro. Questi sono due pilastri importanti rispetto a tutto l'impianto che si è cercato di costruire per la protezione del minore. Però mi perdoni, siamo arrivati a un punto in cui ci si è resi conto che la repressione sicuramente è meno importante della prevenzione. Perché quando si arriva già alla repressione il danno è fatto e i segni della violenza sul minore sono indelebili. La legge può intervenire prima o bisogna aspettare sempre il punto di non ritorno? Guardi, la legge può intervenire lì dove c'è solamente la segnalazione e la denuncia. Io credo semplicemente che dobbiamo valorizzare il ruolo di due figure che sono preziose. Ormai lo sai, è diventato il mio impegno quotidiano e da anni ormai sono convinta che i pediatri e gli insegnanti sono le due figure più preziose di riferimento, le due sentinelle a cui affidare proprio la protezione del minore. Voi ci tornate, lei soprattutto, avvocato, ci torna ogni volta e questo mi fa capire che è diventata una priorità. Pediatri e insegnanti. Pediatri e insegnanti. Ma ce lo dice la cronaca quotidiana, nel senso che formiamo continuamente i pediatri perché sono gli unici che possono intercettare il disagio che non viene espresso dal bambino. Il bambino non ha molte volte le capacità di comunicare la sofferenza, lo stato di ansia, di allerta, di tensione continua perché è preoccupato per la propria vita e la vita della propria mamma. E allora somatizza molte volte con dei comportamenti che solamente il pediatra può intercettare. Molte volte ha crisi di pianto improvvise a scuola, diventa balbuziente, diventa aggressivo con i compagni. In alcuni casi la notte fa la pipì a letto e questi disagi vengono intercettati, possono essere intercettati solamente dal pediatra. Ecco perché è importante che il pediatra faccia subito la segnalazione. Quindi servizi sociali e procura. E poi l'insegnante. L'insegnante è l'altra persona preziosa. Abbiamo avuto ultimamente quel caso dell'insegnante di Pavia, coraggiosissima. Lucia, dammi l'opportunità di ringraziarla. Sì, 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 è bellissima. È stata veramente coraggiosa. Lo ricordiamo un attimo, avvocato, il caso, brevemente, perché ne vale la pena. Quest'insegnante coraggiosa che ha capito in seguito a una crisi di pianto improvviso della bambina, vedeva ogni tanto le gambe oppure le braccia tume fatte, e ha segnalato il caso alla preside, la quale cercava sempre di rinviare la segnalazione, addirittura di ignorarla, e poi l'ha sospesa. Questa insegnante ha continuato in maniera coraggiosa perché ha messo davanti il proprio posto di lavoro che rischiava la protezione del minore. E quindi ha messo al primo posto anche la salvezza. La salvezza. Perché poi il caso è stato completamente confermato. Dottoressa Gambino, le devo fare una domanda. Questo è un quadro molto preciso che poi combacia perfettamente con le parole di Pare Ferretti. I bambini possono guarire? Possono tornare alla vita? Questa è una cosa che è una mia priorità in questo momento. Ci si può lavorare? Sì, assolutamente sì. Ci si deve lavorare. Ed è una responsabilità di tutta la nostra comunità impegnarsi nell'avviare sempre di più servizi di sostegno e di cura per questi traumi. Perché sono traumi che hanno bisogno di essere riparati. Naturalmente attraverso dei percorsi terapeutici mirati, specifici, attraverso degli strumenti ad hoc che aiutano ad elaborare e a superare il trauma. Il cervello dei bambini è plastico, quindi in qualche modo può essere aiutato e sostenuto ad andare verso una nuova visione di sé, una nuova visione della vita. Ci vuole tempo, ma ci vuole anche poi un lavoro intorno di sostegno, come diceva padre Ferretti, ai genitori. Bisogna che anche la mamma venga aiutata a elaborare i suoi traumi e anche il papà ha aiutato a riabilitarsi da questi comportamenti violenti. perché non possiamo aiutare un bambino e poi lasciarlo o farlo ritornare in una famiglia che ha delle gravi disfunzioni. Quindi noi dobbiamo pensare a riparare tutto il sistema familiare e anche la comunità. e anche la comunità, come diceva l'avvocato. Questa è la cosa importante. Avvocato, mi piace fare con lei sempre l'avvocato del diavolo. Per noi, quando scatta la denuncia, quindi proviamo a farci aiutare tramite il consultorio, quando scatta la denuncia, l'immagine che abbiamo arriva all'assistente sociale, brutto e cattivo, che si viene a prendere mio figlio, mio nipote, lo strappa agli affetti familiari. Possono prendere delle cantonate gli assistenti familiari o al contrario, e torno alla legge, i parametri sono così precisi, per cui quando un bambino viene tolto dalla famiglia oggettivamente non c'è alternativa a questo allontanamento. Guardi, secondo me è fondamentale il ruolo delle madri. Il ruolo delle madri perché bisogna far capire alle madri e innanzitutto in occasioni come questa io sempre ricordo il servizio di consulenza psicologica H24 e anche di sostegno giuridico rispetto al numero 1522 della presidenza del Consiglio dei Ministri. 1522, non lo scordiamo mai. Perché dovrebbe essere in maniera più naturale la mamma a mettere proprio con grande senso di protezione il figlio in condizioni di sicurezza. Le dico una cosa, in questo momento storico sono stata io stesso invitata per il 20 novembre, che è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, a molti convegni. Ma io ovunque mi hanno invitata ho sempre risposto per raccontare, per ascoltare quanti servizi vengono monitorati cosa si è fatta e cosa ancora c'è da fare. Non dobbiamo più parlare di principi generali ma dobbiamo concretamente capire quali sono i servizi efficienti affinché non si verifichi quello che si è verificato. Torna il raggio di sole, padre Ferretti, dottoressa Gambino, avvocato Castagnola, grazie. E quello che speravamo, ci siete arrivati da soli, da tutto quell'inferno si può e si deve uscire. Permetteteci di regalarvi un po' di luce dopo la Santa Messa noi seguiremo.